Non si vede niente, dove sono qua? Ah, bocca miseria, ho fatto una solo il genocchio mi ha preso. Ma quante poltrone c'hanno in questa casa? C'hanno più poltrone che letto. Ah, ma sei già qui madre snaturata? Ma che fai, fingi di dormire? Ma come prima mi provochi, mi ecciti tutto davanti a tua figlia, mi fai il piedino, mi sbottoni i pantaloni e poi fingi di dormire. Ma stanotte non avrò pietà, stanotte il pane della bocca di tua figlia ce lo dobbiamo togliere. Sono deciso a tutto. Sì signora, che fai, non parli? Non rispondi? Hai paura, hai paura che lo sappia Caterina? Ma glielo dirò io, glielo dirò a Caterina perché la lascio senza pane. Sì signora, glielo dirò e poi succeda quel che vuole. Se lo capisce bene altrimenti...